Grande fermento politico in vista delle prossime elezioni amministrative in programma per il prossimo 26 di maggio. Nel Terramano c'è anche Pineto, dove i residenti del Comune Costiero dovranno scegliere tra quattro candidati alla carica di primo cittadino. Il sindaco uscente Robert Verrocchio è sostenuto dal PD, Sinistra Italiana, PC e Articolo 1 con la lista Scegliamo Pineto. C'è anche l'ex questore di Pescara, Paolo Passamonti, con la lista Sicuramente Pineto, appoggiata da Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma non della sezione locale, Partito Socialista, Azione Politica di Gianluca Zelli e Pineto 2.0. Poi c'è l'avvocato Luca Di Pietrantonio, sempre nell'area di centrodestra con la lista Prima Pineto, appoggiata da Lega, dagli azzurri pinetesi e dalla formazione civica Pineto Civica ed infine il candidato del Movimento 5 Stelle, Filippo da Fiume, dirigente amministrativo. Ricordiamo che a Pineto non ci sarà il ballottaggio, dunque per eleggere il nuovo sindaco basterà che uno dei quattro candidati prenda un voto in più degli altri.